E' sbarcata la Pinettina, la Cancro Primo Aiuto Golf Challenge Trofeo Caloni Coppa Autovanti, in occasione della sua nonna tappa. Un debutto per la Onlus sul campo di Appiano Gentile e un grande successo vista l'ampia partecipazione. Sono stati 120 giocatori che si sono sfidati in nome della solidarietà. Anche quest'anno siamo presenti, accompagniamo Cancro Primo Aiuto in questa manifestazione. Ogni manifestazione legata allo sport per noi è un orgoglio perché tutto sommato si legano argomenti meno piacevoli e argomenti molto piacevoli e per cui è il decimo anno che seguiamo Cancro Primo Aiuto nelle sue attività in un anno particolare perché nel 2020 è un anno che resterà nella storia per la sua unicità, per quanto è capitato a tutta la popolazione e per noi il lavoro è doppio in quanto i malati oncologici passano in secondo piano e questo per noi è inaccettabile. Quindi facciamo il possibile perché ritornino in primo piano, vengono assistiti al meglio e per cui ci adoperiamo tutti in queste iniziative. Quello della Pinettina è un percorso bello e impegnativo dal punto di vista tecnico che ha sollecitato l'entusiasmo dei partecipanti alla gara. Sono lieto di aver ospitato per la prima volta questa quarta tappa, questa prova di questo importantissimo circuito che oltre ad avere un'importanza commerciale è anche un'importanza benefica ed ha, devo dire, avuto un enorme successo, quasi 120 giocatori, la giornata meravigliosa. Ci auguriamo per il prossimo anno di rivedere ancora sia gli sponsor sia il circuito e anche di avere avuto il successo che abbiamo avuto quest'anno. Main sponsor dell'edizione 2020 del Cancro Primo Aiuto Golf Challenge è la Caloni Trasporti e Logistica, come nel 2019, affiancata quest'anno da Auto Vanti con il marchio BMW. E proprio le auto del segmento Luxury di BMW hanno attratto l'attenzione di molti. Auto Vanti, concessionaria del gruppo BMW, è lieta di continuare questo percorso iniziato con l'associazione Cancro Primo Aiuto. Oggi siamo al Golf Club La Pinettina di Appiano Gentile e per l'occasione abbiamo portato le vetture del nostro segmento Luxury, infatti una serie 7 e una serie 8 gran coupé, così come del segmento M Sport e plug-in hybrid. Vi ricordo che per provare queste vetture siamo disponibili sia a test drive in concessionaria sia durante invece le tappe del torneo a punto CPA Cancro Primo Aiuto. Sara Berselli si è giudicata il Lordo con 36 punti, mentre Domenico Arcadia ha vinto la prima categoria con 39 punti. Appuntamento sul campo al 12 settembre per la prossima tappa. Grazie. Grazie.